Vincenzo Caccarino è una persona di spirito, ci chiamiamo, ci chiamiamo e lavoriamo, lavoriamo assieme ed è l'unico che in due anni non ha cambiato una volta, la sua convinzione di essere il sindaco di questo paese e anche la sua petitotica. Sono due anni in piena volta, contenti di questo paese. Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per il sostegno e la fiducia accordata, speriamo di riuscire a migliorare le cose in questo paese e speriamo soprattutto di restituirvi l'orgoglio di essere carottesi.